Ben trovati, permettetemi di parlare un po' di noi, almeno all'inizio dell'editoriale, perché sia io che tutti quanti voi dovremmo ringraziare oggi il direttore del telegiornale Danilo Lupo per la sua attività svolta a capo della redazione del telegiornale di Telerama. Da oggi Danilo Lupo non svolgerà più questa mansione, ma continuerà col suo spirito forte e giornalistico a portare avanti le indagini, le importanti inchieste che Telerama nella sua storia ha sempre voluto attraverso l'Indiano. Quindi un applauso e un ringraziamento per quanto ha fatto per tutti quanti noi Danilo Lupo. E un saluto e un buon lavoro per quanto invece farà il successore di Lupo a capo della direzione del telegiornale di Telerama, il collega Gaetano Gorgoni, che avete avuto già modo di vedere nella trasmissione di politica da lui condotta proprio sulla nostra televisione e che da oggi sarà il nuovo direttore del Tg di Telerama. Quindi ancora un grazie a Danilo Lupo e un grazie in anticipo per quanto saprà fare certamente il collega Gaetano Gorgoni come direttore del telegiornale della nostra emittente. Ma veniamo invece a quanto sta succedendo all'interno della Regione Puglia, a margine anche delle dichiarazioni fatte finalmente in Puglia e in Consiglio regionale dal Governatore Vendola la scorsa settimana, nel momento in cui faceva una riflessione su ciò che è stato e su ciò che sarà, affermando anche una frase che condivido, che il 2013 potrebbe essere l'anno del cortocircuito economico, come dire, politico, perché è vero, c'è una crisi, ma c'è anche la crisi delle personalità della politica. Io voglio porvi un interrogativo. Se qualcuno di voi dovesse farmi una domanda su cosa è stato detto all'interno dell'editoriale Nero su Bianco di 20 giorni fa, io potrei rispondere no, non lo so e comunque se voi non condividete quello che è stato detto non è colpa mia. No, non potrei dire ciò. Dovrei dire, dovrei spiegare, dovrei motivare una mia affermazione o delle mie convinzioni e non dire che non ne so nulla o che non è mia colpa o responsabilità quanto viene detto in questo spazio. Ossia mi dovrò comunque sempre assumere, come dire, il ruolo di protagonista in questo momento televisivo senza scaricare colpe a terzi soggetti. Per quale motivo invece la politica ogni volta scappa dalle proprie funzioni, dalle proprie responsabilità? Per quale motivo la politica, tutti quanti, centrodestra, centro, centrosinistra, devono dar la colpa a qualcun altro? Per quale motivo allora il governatore Vendola non ne sa mai nulla o per quale motivo il governatore Vendola è come se fosse sempre vittima di un sistema, come se lui fosse l'antisistema e le colpe o l'incapacità di portare avanti quanto promesso agli elettori pugliesi, le colpe le responsabilità di quanto omesso agli elettori pugliesi dovessero sempre essere ricercate in altri ambienti, sempre ricercate in altre parti politiche e in altri ruoli. Allora ci può spiegare il motivo per cui il governatore dice che entro il 2013 la regione Puglia non sarà in grado, ma ce lo deve spiegare bene, non in politichesse come ha tentato di fare in consiglio regionale, non sarà in grado la regione Puglia di fruire di tutti i finanziamenti europei? Ci vuol dire, oppure non lo vuol fare perché probabilmente il leader della Giunta, ossia lui, perché un leader certamente è, poi si può condividere o meno, non avendo fatto il leader regionale, ma pensando di fare il leader nazionale si è distratto per cui come dire si sono rallentate un po' le varie procedure e noi rischiamo di non avere la forza di usare gli ultimi fondi europei? Deve spiegare queste cose, ci deve spiegare il motivo per cui ha sbagliato le scelte degli assessori alla sanità, sì perché se li ha cambiati evidentemente ha avuto modo di constatare che l'attività politica non era svolta a garanzia dei pazienti, ma quegli assessori li ha decisi lui, li ha scelti lui, tant'è vero che in ogni cambio, sempre in occasione della successione e dell'avvicendamento tra uno e l'altro, il partito di maggioranza del centrosinistra, ossia il partito democratico, ha avuto sempre da ridire, ci devono spiegare, ce lo deve spiegare il neo assessore Gentile, come saranno portate avanti le assunzioni del nuovo personale, perché se la sanità funziona, funziona grazie ai medici e al personale non medico che con abnegazione lavora e fa i doppi e i tripli turni, ma quando non funziona è perché il governo della sanità ha delle fratture, allora ci devono dire tutto questo, mi potete dire dire direttori generali di Brindisi e di Lecce per quale motivo non siete andati a contestare a Bari a proposito e a margine del riordino il fatto che le nostre province siano state depotenziate dall'incremento dell'organico nella sanità, tranne Taranto e forse a Taranto si danno tanti posti per giustificare il fatto che ancora i tarantini aspettano un ospedale, vero come quello promesso anni fa dall'attuale parlamentare Pelillo fino all'altro giorno assessore e dalla stessa giunta Vendola, vogliamo sapere tutte queste cose perché altrimenti non se ne esce, non riusciamo a trovare una soluzione, per quale motivo sarebbe a rischio la sanità service a proposito di sanità regionale? Cosa c'è sotto questa macchina? Che se non so ricorderete un po' di tempo fa io ho lessi una lettera di alcuni dipendenti di questa struttura, la sanità service, a parte a voler riaprire il caso del suicidio del manager Salentino che era al vertice della struttura sanità service di Bari. Beh in quella lettera si dissero e si fecero delle affermazioni alle quali nessuno ho avuto il coraggio poi ancora di rispondermi, che molte anche neoassunzioni erano generate da rapporti politici e molti lavoratori della sanità service con un'anzianità subivano contratti ridottissimi, mentre nuovi assunti riuscivano ad avere dei contratti più soddisfacenti ed oggi si inizia a parlare anche di chiusura di questa. Per quale motivo? Chi è che l'ha governata male? Chi è che non l'ha controllata? Chi è che non è in grado di svolgere a tutela della nostra salute il mandato per cui è stato chiamato? Beh non lo so, visto che lui non sa mai nulla, posso anche non saperlo io. A domani.